allora andiamo alle cose che sono pensate di side è un fratello ma è un fratello gli voglia un mondo di bene presto fuori pezzi due rega oramai l'ho detto presto fuori sul mio cazzo di album presto fuori pure bussenecremix sul mio cazzo di album di regalazioni regalato e mandato tutti a casa che mandavo lui